Buonasera a tutti, un caro saluto a chi ci sta seguendo in questo momento su Padre Pio TV o su vari cani di social, un saluto anche a chi sta a San Giovanni Rotondo. Niente, questa sera è bello condividere con voi anche questa sera il fioretto che ho preparato e che ho ideato. Allora, fin da piccoli, dalle scuole elementari ci veniva dato un libro che dovevamo leggere, magari poi riassumere, soprattutto nelle vacanze estive ma anche nelle vacanze di Natale. È normale che quando mi veniva dato questo compito, era un po' pesante, però devo essere sincero che sono riuscito sempre a portarlo a termine. Ora che si è più grandi questo tipo di compiti, ahimè, non ci sono più, il tempo scorre, ci sono tante cose da fare, quindi difficilmente ci si riesce a dedicare un po' di tempo leggendo un libro. È una cosa che mi piacerebbe fare, quindi il fioretto che ho pensato di fare è proprio quello di dedicare un po' di tempo, che sia prima di andare a dormire o che sia anche durante la giornata, se possibile, leggere qualche pagina di un libro, qualche capitolo. Magari sarebbe interessante riuscire a leggere la Bibbia per intero o i Vangeli per intero. È un fioretto che mi piacerebbe tanto portare avanti. Iniziamo magari riuscendo a leggere un capitolo prima di andare a dormire. Sono sicuro che questo può essere un motivo di crescita per me e anche per rilassare la mente che non fa mai male. Vi ringrazio e vi saluto.